Superanalotto Corso numero 72 Le 90 sfere numerate per la sestina vincente e il numero jolly sono state caricate con l'autorizzazione della commissione di controllo di Amoral via l'estrazione di questa sera Le sfere sono scese nell'urna elettronica e inizia il loro mescolamento automatico Agnami insieme a scoprire il primo numero della sestina vincente Primo numero estratto è il numero 89 E in arrivo il secondo numero Il secondo numero estratto è il numero 21 Al terzo numero si inizia a vincere Terzo numero estratto è il numero 66 E in arrivo il quarto numero che ci porta verso il premio importante Quarto numero estratto È il numero 43 Quinto numero estratto è il numero 29 Col sesto numero la sestina è completa Sesto numero estratto è il numero 53 Abbiamo i 6 numeri che possono assegnare il jackpot Passiamo ora all'estrazione del numero jolly per l'attribuzione dei premi di seconda categoria Numero jolly di questa sera Il numero jolly di questa sera è il numero 4 Controlliamo insieme la sestina vincente in ordine di estrazione il numero jolly 89 21 66 43 29 53 Numero jolly e numero 4 Ora passiamo al numero super stare Il numero che ciascuno di voi può scegliere o che viene assegnato casualmente dal terminale di gioco Già al momento della convrede della giocata può far vincere premi istantanei da 5 euro fino a 10 mila euro Ed all'estrazione di sabato 21 giugno Codice alfanomerico stampato automaticamente sulla ricevuta di ogni giocata super star Permetterà di partecipare all'estrazione di un premio istantaneo Straordinario e garantito per ogni concorso del valore di 500 mila euro E siamo ora pronti con la seconda urna elettronica già caricata con le serie dall'1 a 90 E procediamo con l'ultima estrazione di questa sera Vi ricordo che il numero super star premia anche lo 0, l'1 e il 2 Moltiplica 25 volte le vincite del 5, 100 volte quelle del 4 e del 3 Il numero super star di questa sera è il numero 14 E ricontrolliamo insieme tutti i numeri del concorso numero 72 del Supranalotto Con la sostina vincente in ordine crescente 21, 29, 43, 53, 66, 89 Il numero gioia è il numero 4, il numero super star è il numero 14 E l'estrazione di oggi, martedì 17 giugno, termina qui Tra qualche minuto scopriremo insieme se il jackpot di oltre 10 milioni di euro E' stato assegnato a uno più vincitori E noi vi aspettiamo sempre qui Siso al TV, la rete in diretta con la fortuna Ben ritrovati su Siso al TV, la rete in diretta con la fortuna